Buongiorno amici miei, purtroppo è successo, stavattina siamo rimasti a casa nel letto con i nostri amici che ve li faccio vedere l'amico Tachipirina l'amico Termometro l'amico Vix per il mal di gola l'amico Propoli, sempre per il mal di gola e il nostro caro amico Shiroppu, perché è giapponese che è fantastico, mi sta facendo passare tutto però, volevo approfittarne oggi per farvi vedere un paio di cose che ho comprato ieri prima di stare malissimo quindi, voi lo sapete che sono anche appassionato di Pokémon quindi vi faccio vedere abbiamo preso il nostro bel Litten il nostro bel Litten che è molto bello poi poi poi, scrivetemi nei commenti se a voi piacciono i Pokémon tra l'altro perché ho visto che i video e il gameplay che avevo fatto che non mi piacevano tanto poi 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 abbiamo, abbiamo preso Totodile bellissimo un altro starter tra l'altro questo 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 molto bello anche lui poi poi per il nostro amico Maurizio che ce l'aveva chiesto per suo figlio non c'entra niente con i Pokémon non c'entra niente con i Pokémon guardate che bello io spero di non fare un casino che magari è una sorpresa per il figlio chi lo sa io ve lo faccio vedere e poi, e poi sempre aspettando i 500 iscritti io mi sono preso anche questo tutto ieri tra l'altro era capitato così un bello orologetto un bello orologetto quindi cosa facciamo ancora? Arriviamo a 500 iscritti pollice su al video commenti e mi scrivete di che cosa vorreste l'unboxing nello speciale 500 iscritti io vedrò se oggi pomeriggio riuscirò a uscire dalla stanza o no quindi alla prossima ragazzi un saluto da Kyoto ciao ciao